Allora Gianni, grazie a tutti, buon compleanno. Un regalo che te lo sei già fatto oggi, ci può stare anche un secondo? Ma, chi lo sa, oggi sicuramente cercherò dando il massimo come ieri e vediamo, la concorrenza è guerrita e qualificata soprattutto. Il percorso è duro oggi, però quando c'è la condizione, chi lo sa, si può sempre sperare. Com'è no, cercherebbe di controllare la corsa? Ma sicuramente sarà il nostro obbligo, insomma, quello di controllare la corsa, almeno nelle prime fasi, e poi sicuramente anche altre squadre cercano di fare la loro corsa. La classifica ovviamente è tutta da fare ancora, quindi sì, abbiamo la maglia, cercheremo di difenderla, però si correrà come se sia da fare ancora. Grazie.